Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera all'almanacco italiano dal 1762, lunedì 17 marzo. Ariete, la luna ostile dalla bilancia creerà un'opposizione ad Urano nel segno, una giornata caotica elettrizzata in cui correrete di qua e di là. Battibecchi in famiglia, non potrete chiarirvi perché avete poco tempo per stare insieme. Toro i vostri desideri, nonostante gli sforzi non si collimano con quelli dei familiari, vi guardate un po' incagnesco nonostante la buona volontà. Se sarete disposti ad ascoltare le motivazioni profonde degli altri, vedrete che tutto andrà come volete. Gemelli, saprete mettere a frutto esperienze che in passato vi avevano messo alla prova. Sarete saggi anche se sarà meglio non dirlo a nessuno, non è necessario sottolineare certe proprie capacità, gli altri devono capirlo da soli. Cancro, se avete intenzione di cambiare casa e finora non ci siete mai riusciti, si aprirà uno spiraglio che vi permetterà di concretizzare ciò che sognate. Potrete realizzare il vostro desiderio ma con una gradualità, alla fine sarà proprio come l'avevate sempre desiderata. Leone, la luna in bilancia vi sorride. Se in certi momenti non comprendete il senso di quello che state facendo, fate ricorso alla vostra forza interiore. Ascoltate la voce interiore, datevi un obiettivo e troverete la strada che vi condurrà fuori dal guado. Vergine, se a forza di ripensare a fatti e situazioni rimettete di continuo in discussione certe decisioni, ci penserà Saturno, amico, a stabilizzarvi. Non lasciate che una notizia che gira dalla vostra cerchia di amici urti la vostra sensibilità. Fate chiarezza. Bilancia, un intrigo celeste è un po' destabilizzante. Non dovete più tacere quando capite che qualcuno vorrebbe prendersi gioco di voi, reagite. Diplomatici e desiderosi di armonia vorreste andare d'accordo con tutti, ma non è sempre possibile. Scorpione, affermate che non tornerete su certi passi, ma non avete bisogno di essere così categorici rispetto a certi condotti che volete adottare e che forse avete timore di non avere la forza di rispettarle. Cercate di trovare in voi la determinazione necessaria. Sagittario, farete degli incontri che riusciranno a stuzzicare la vostra curiosità ed allargeranno positivamente il vostro panorama esistenziale. Non vi complicate la vita, lasciatevi andare all'espressione del vostro slancio vitale senza tante domande. Capricorno, la giornata scorrerà tra alti e bassi. Non esagerate con l'attivismo, siate moderati, limitatevi all'ordinaria amministrazione e il mondo vi sorriderà. Cercate di cogliere nelle parole e nel comportamento di chi vi è accanto l'aspetto migliore. Aquario, venere nel segno apprezza la luna in bilancia. Se avete dei figli non pensate che siate sempre solo voi a dover insegnare loro delle cose. Accogliete anche e soprattutto quello che loro hanno da donarci. Apprezzerete così i veri valori della vita. Esci, avrete soddisfazioni nell'ambito sociale. Diverse persone vi dimostreranno stima e accetteranno di condividere con voi idee e progetti. Se volete dar vita a nuove imprese, chiedete consiglio per non sbagliare e non perdere tempo.